Benvenuti o bentornati sul canale per un nuovo video! E' ora di Issa e Dori in Mania! Quindi di tutte le cose che mi sono piaciute di più nel mese di aprile. Vediamo, scopriamolo insieme. Iniziamo subito con le serie tv. Andiamo subito alle serie tv e vi dirò che grandissimo amore per God, Game of Thrones. Vi ho rotto le bols nelle stories, nei post, parlandovi di questa serie. Sapete che l'ho vista tutta. L'avevo vista tutta con Pablo ma non ci focalizzavamo sulla serie. Ci mettevamo a scrivere al computer, giocare ai giochini lui sul cellulare. Io magari a vedere che so, vabbè, su Facebook. No! Game pretende la tua attenzione perché se no non capisci una fava. Detto proprio così. Quindi avevo visto tutte le set delle stagioni e ci avevo capito poche niente. Ogni tanto qualcuno nominava un personaggio. Tyrion, ma chi è? Tywin, ma chi è? Rob, ma chi è? Arya, ma chi è? Spessissimo ci guardavamo e dicevamo, ma tu hai capito chi è sto tipo? No. E tu? No, neanch'io. Ma perché non lo seguivamo? Quindi? Quindi. Ho ripreso in mano le fila del discorso e sono ripartita dalla prima stagione. Sto finendo la quarta stagione. Devo dire che a mano a mano che vado avanti mi ricordo un po' di più di cose. Perché ovviamente sono più recenti le stagioni. Per cui mi appresto ad arrivare, come tutti voi, a vedere l'ultima definitiva stagione. Quella che risolverà chi siede nel trono di spade. Guai a voi se mi fate spoiler nei commenti. Vi blocco a vita. Cioè proprio, non lo so, vi faccio... Vi distruggo le count di YouTube. Non voglio sapere niente. Per cui ho ripreso in mano. Ve lo dico così. Se non avete visto Game, dovete subito porre rimedio. Riniziate da capo se l'avevate mollata. Ma guardatelo perché è veramente una figata. Seconda serie che sto guardando. Gomorra. Anche quelli di Gomorra hanno un po' rotto le bowls. Perché voglio dire, Gomorra è partita tipo sei anni fa. Siamo alla quarta stagione. E io non mi ricordavo più una mazza. Perché, ok, l'avevo seguita con estrema attenzione. Ma tipo avevo 25 anni quando hanno dato la prima stagione. Cioè tipo adesso che stanno dando la quarta mi sono dimenticata tutto. Quindi ho ben deciso di riguardarmi tutta la serie dall'inizio. E ho preso la prima stagione. L'ho conclusa. Sono a metà della seconda stagione. E poi mi guarderò la terza. E finalmente mi guarderò la quarta. Quindi queste sono le due serie che hanno, diciamo, occupato il mio aprile. Fighissima comunque Gomorra. Quindi se non avete visto Gomorra ve la straconsiglio. Soprattutto se avete visto Suburra e vi è piaciuta. Non potete vedere Gomorra. Cioè tipo Roma contro Napoli. Chi vince? Per me vince Napoli. È più bella Gomorra. Ma Suburra con quella Alessandro Borghi lì. Che per me è bellissimo, bellissimo tipo. Affascinante eccetera. Ma è un secco quindi non mi piace particolarmente. Ma sapete che io ho questi gusti per gli uomini muscolosi. Vabbè comunque questa era una digressione. Altra cosa che ha occupato le mie serate. Perché cioè se avete visto il recente video della serie Chiacchere. Che si intitolava Trovare un nuovo amore. Quando mai troverò un nuovo amore? Se le mie serate le passo o in palestra o davanti alle serie tv. Nel divano a vedere le serie tv. Mai. Quindi non fate come me. Però l'altra cosa che ho visto nel mese di aprile è Masterchef. Anche qua non mi fate spoiler per l'amor di Dio. Perché io sono indietro. Ho visto solo le prime puntate. E me lo sto recuperando. Perché purtroppo nel testa a testa tra Gomorra, Masterchef e Game. Praticamente stanno vincendo Gomorra e Game. E Masterchef mi è rimasto un pochino indietro. Però me lo recupero perché sia mai che io non mi veda a Masterchef. È tipo come dire una trasmissione cult. Per me la guardo dalla notte dei tempi. Ho visto tutte le edizioni. Mi piace un botto. Anche se questo nuovo giudice, questo nuovo chef mi sta un po' sulle balle. Devo dire un po' così. Un po'. Non lo so. Rimpiango il caro vecchio antipaticissimo cracco. Non so voi. Ma per me è così. E quindi abbiamo concluso la questione serie tv, trasmissioni, bla bla bla. Non guardo tv. Non la accendo praticamente mai. La uso per vedere le serie tv sullo schermo in sostanza. Poi arriviamo a cose. A cose. Sto guardando l'elenco perché mi sono messa qua tutti i prodotti. Non poteva mancare la fissa fitness del mese. Si tratta dei leggings fatti in questi tessuti super super simili alla lycra. Alle calze super grosse 100 denari per capirci. Che risultano super 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 aderenti. E aderiscono talmente bene al corpo che anche quando fate squat. Anche quando fate esercizi in cui dovete completamente piegarvi. Non vi si schiodano di dosso. E peraltro esaltano anche un po' tutte le forme. Ho accettato la collaborazione con questo brand dopo aver provato il mese scorso un paio di leggings che mi avevano mandato. E sono fantastici. Quindi assolutamente il livello qui è altissimo. Siamo a livello di Reebok, Adidas, Nike. Assolutamente al 100%. Tessuti veramente super confortevoli. E bellissimi da indossare. Peraltro guardate quanto è bella la fascia che hanno in vita. Unica cosa. Mi piacerebbero leggermente più a vita alta. Non sono a vita bassa ma io li voglio a vita stra alta in questo periodo. Hanno questa banda laterale. Vedete un po' più scura. E me li hanno inviati sia in questo colore grigio un po' più scuro. Sia nel colore grigio un po' più chiaro. Ma sempre con la caratteristica della banda rossa in vita. E sia appunto proprio rossi che sono i primi che avevo ricevuti. Mi piacciono da impazzire. Praticamente non riesco a portare altri leggings se non questi che mi hanno mandato loro. Perché la qualità è molto 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 elevata. Simile a quella di un altro brand anche che vi farò vedere. Insomma sto usando queste nuove cose ricevute perché ho scoperto questo nuovo filato. Questa nuova aderenza che mi fa impazzire. Sempre del loro brand mi hanno mandato questi neri. Loro praticamente si chiamano Social Eras. Ho scritto Social Eras su Instagram. Però sono appunto un sito che all'interno ha questo marchio che si chiama Abeatis. Non so se si lega in modo diverso. Io ve lo dico all'italiana per capirci. Che è scritto così. Vedete? E mi hanno mandato anche questi neri che sono invece super a vita alta. Tagliati al vivo in fondo. Super super aderenti. Mi piacciono moltissimo. Anche questi hanno un'ottima vestibilità. Perché peraltro vedete che hanno questa doppia cucitura qua. E questo taglio che esalta proprio il sedere. Ragazzi è buonissimo. Quindi se dovete acquistare online dei leggings di qualità molto molto buona. Non posso che dirvi di andare ad occhi chiusi. Perché la qualità è ottima. Cioè niente 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 a che vedere. Con quelli che di regola un po' più mollicci. Un po' più sottili. Vendono nei siti cinesi. Che magari pagate molto meno. Però insomma non sono di questa qualità. Qui ripeto siamo a top quality. Per quanto riguarda i tessuti fitness. Arriviamo al beauty. Il beauty. Il beauty. Allora. Cosa mi è piaciuto da morire? Un detergente viso. Che video di Saidori sarebbe senza un detergente viso di cui parlare? Sempre un qualcosa che riguarda la pulizia del viso. Lo trovate sempre nei miei video. Perché sono quelli che uso di più. Che cambio di più. Che apro di più. Le creme magari tendo a finirle. Prima di aprire una nuova detergente apro un po' tutto. Quello che ho amato moltissimo. E sto usando in questo periodo. Anche se adesso l'ho agitato e sembra pieno. Perché è nero. In realtà ne ho utilizzato almeno un tanto così. Adesso pian piano sicchetta. E vedrete. Si chiama. Carbone attivo purezza naturale. Gel detergente detox. Col 20% di aloe vera. Carbone vegetale. Glicerino vegetale. Di equilibra. A tutti i suoi bravi senza. Il senza parabeni e siliconi. Petrolati. Peg. Oli minerali e paraffina. Dermatologicamente testato. Indicato per pelli sensibili. Sottoscrivo tutto. Anche perché io quando avevo letto detox. Avevo detto. Ma magari è per quelle pelli un po' impure. Che hanno bisogno di essere un po' più purificate. Eccetera eccetera. Quindi la mia delicatina. Dermatite permettendo. Non lo so se lo reggerà. Non solo lo regge. Ma lo trovo delicatissimo. E' proprio il mio ultimo step della sera. Quando mi strucco. O il primo step del mattino. Quando utilizzo appunto il detergente. Lo amo. Lo adoro. Mi piace da morire. E' un super low cost questo. Perché costa sui 5 euro. Nemmeno. Sì 3-4 euro rotti. E 5 euro. Lo trovo buonissimo. Peraltro ha un profumo. Che non ve lo sto a spiegare. Ma secondo me è un po' sa anche di mela. Mela verde. Una roba fresca. Comunque buono 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 buono. Il profumo. Di quelli a cui vi diventate dipendenti. Proprio eh. Mi piace. Mi piace tantissimo. Deterge benissimo. Mi sento proprio la pelle bella. Fresca. E soprattutto mi leva alla perfezione. Tutti gli ultimi resi di trucco. Quindi mi piace da impazzire. Sempre per esfoliazioni. Detersioni. Insomma viso. Adoratissimo prodotto di aprile. Codalie. Codalie. Creme Gommant. Deuce. Quindi. Gentle Buffing Cream. È praticamente un gommage. Molto molto delicato. Quindi uno scrabbettino. Se vogliamo dire scrabbettino. Con i granulini leggeri leggeri. Che però fa veramente il suo bravo dovere. Il suo porco dovere. Ha un profumo. Anche questo. Meraviglioso. A me le profumazioni di Codalie. Piacciono praticamente sempre. Adesso poi vedrete. Perché vi sto per dire questa cosa. È carinissimo il pack. Che ha il tappo di legno. Guardo anche il pack. Devo dire la verità. Mi accattiva tanto anche il pack. Dice appunto che serve per rimuovere le cellule morte. Le impurità. La pelle luminosa. Eccetera. È vero. È vero. Verissimo. Nel senso che dopo che ve lo mettete vi sentite proprio i pori che respirano. Mi piace tantissimo. Lo uso spessissimo. Lo scrub. Quindi è uno dei prodotti che più amo. Pelli sensibili. Ed è vero. Perché l'ho utilizzato tranquillamente nel periodo appunto di dermatite eccetera. Super tollerato. Poi continuiamo sempre con cose beauty. E continuiamo con Codalie. Adoratissimo profumo del mese di aprile. Una fragranza primaverile. Quindi ho dismesso quelle un po' più strong. Per passare a questa meraviglia della natura. Si tratta di tè de vigno o fresh. Questa qua. Eccola. Si legge bene. Tè de vigno o fresh. Mi sono segnata i componenti della sua piramide. È un orientale floreale. Con muschio bianco. Neroli. Quindi arancia amara. Zenzero. Anzi liquore di zenzero. È infuso di arancio e gelsomino. Quindi ovviamente essendoci il gelsomino non poteva che farmi impazzire. Però quelle note appunto fresche dello zenzero, dell'arancio e invece questo fondo un po' più avvolgente di muschio bianco appunto. Mi piace da impazzire. Impazzire, impazzire. È delicato ma è di carattere. È un profumo di carattere secondo me. Quindi mi piace veramente tantissimo. Ne ho usato tantissimo. Guardate che mi sono fatta tipo la doccia perché è mezza boccetta. L'ho iniziato in aprile. Poi amore, amore, amore folle. Per questi prodotti che mi erano stati inviati credo in marzo da Yves Rocher. Quindi un'uscita molto molto recente. La trovate sicuramente nei negozi. Quando li ho ricevuti ho detto ma mi sembra una roba. Un po' troppo invernale. Perché diceva Argan è rosa ben douche amam. Quindi ispirati all'amam. Quindi al Marocco, Tunisia, quei paesi nord africani che richiamano appunto questi sentori, l'olio d'argan eccetera. Ma sposato con la rosa. Viene fuori un aroma di una bontà. Se si può dire bontà per gli aromi. È buonissimo perché innanzitutto va beh alla rosa che a me fa impazzire. Lavanda, rosa e gelsomino. Sono i miei tre profumi proprio top della vita. Le cose che mi piacciono di più a livello profumoso. L'argan mi piace moltissimo e questa abbinata di prodotti è una bomba. Si tratta appunto del latte corpo e del ben douche. Quindi del bagno schiuma. Usati insieme si danno forza l'uno con l'altro. Peraltro la crema è fantastica perché non solo vi lascia la pelle stra super vellutata e profumata. Ma nella sua corposità e nel suo essere molto performante a livello di nutrizione si asciuga super in fretta. Ha questo pratico dispenser che è una delle cose che amo nelle creme perché tac tac non mi sguscia tra le mani. È veramente stra pratica. Peraltro ha il cosino che si richiude. Quindi devo dire che pur non essendo un pack leggerissimo me la sono portata in palestra quando è capitato. Insomma io li amo. Profumazione topperni ma se vi piace la rosa prendetelo. E soprattutto non abbiate timore che sia una profumazione troppo invernale perché vi lascia quel profumo delicato sulla pelle. Che a mio avviso si sposa anche stra bene con questo. Infatti è il mio trittico per sapere di buono. Li amo. Mi piacciono moltissimo. Poi ultimo prodotto che potremmo diciamo far rientrare nel beauty è il prodotto con cui lavo i pennelli. Mi è piaciuto tantissimo ma l'avevano inviato con un invio di novità Sephora a tempo dietro. Quando l'ho provato una bomba l'ho trovato buonissimo. A parte il profumo che mi ci laverei la faccia. Cioè ha proprio un profumo stra buono questa roba. Peraltro adesso mi bagno perché ho appena lavato i pennelli del correttore. E cos'è? E' un sapone appunto contenuto in questa latta. Vedete tipo le vecchie latte tipo della Nivea. E dalla parte del tappo ha attaccato con una ventosa. Perché vedete è un robino che si attacca con la ventosa. Questa robina di gomma qua. La attaccate qua. Voi tenete in mano sti due robi qua. Passate il pennello bagnato e passato nel sapone. Poi andate a sfregarlo contro sto robo che gli leva tutto lo sporco. Poi fate sgocciolare bene sia sapone che... Diciamo un tappettino gripposo. E richiudete la scatoletta. Si chiama Sephora Savon Nettoyant Pinsot Solid Brush Cleanser. Se volete. Cleaner anzi. Se volete dirlo in inglese. Lo trovo fantastico. Li pulisce veramente veramente bene. Dura un'eternità. Lo sto usando da tantissimi mesi devo dire. Però mi dimenticavo sempre di parlarvene. Li lascia super profumati e strapuliti in un secondo con la questione del grippli. C'è proprio una cosa comoda. Pratica. Mi piace. Mi piace tantissimo. Arriviamo a una roba... Se non sbaglio. Sì volevo parlarvi di questa. Una cosa... Come si dice? Tecnologica. E' praticamente la cosa senza cui non esco di casa. Ve l'ho sicuramente fatta già vedere in un video o vlog. Quando mi era arrivata ne sono sicura. E poi quando ho fatto lo svuota la borsa. Però magari non tutti hanno visto lo svuota la borsa. Secondo me è una cosa così figa che si meritava di essere inserita nelle side orimanie. E parlo di questa aggeggino qua. Che nient'altro è se non che una batteria per ricaricare l'iPhone. E questo brand si chiama Easy Hatch. L'ho trovata su Amazon. E costa un 39 euro se non sbaglio. A me è stato inviato. E l'ho stra stra stragradito. La figata qual è? Innanzitutto è un 5000 mAh. Quindi non è grossa come le altre che avevo ricevuto. Che una era da 26.000 e una da 12.000. Ma anche 5000 vi fa tipo due ricariche tranquille. Forse anche la terza non ci ho mai provato. Ma due ricariche complete ve le fa. Quindi tipo se state fuori tutta la giornata vi basta assolutamente. E poi è una cover. Vedete? È una cover. Voi ci mettete il cellulare. E con i modelli di cellulare più moderni. Quindi con l'iPhone X che ho io. Mi sono regalata il mese scorso. Quindi metto anche l'iPhone X tra le cose preferite di aprile. Perché la fotocamera è veramente molto molto migliore. Io faccio i video con l'iPhone X. Non ve lo posso far vedere perché in questo momento è qua davanti a me. E sta facendo il suo lavoro. Ma tutte mi avete detto Silvia. La qualità dei video è molto migliorata. Fa video in 4K. Quindi topissimo. Peraltro vi do un consiglio. Se volete prendere un cellulare iPhone pagandolo un po' meno. Con un'ottima garanzia da un acquirente ovviamente garantitissimo quale Amazon. Andate a vedere la sezione Warehouse. Perché è praticamente il magazzino di Amazon. Dove ritornano i prodotti che per un motivo o per l'altro gli acquirenti non hanno voluto. E che quindi hanno 30 giorni per rimandare indietro. In quel caso ovviamente il prodotto è intonso. Non è stato utilizzato dal cliente. Perché se no non è possibile ovviamente renderlo. Quindi semplicemente magari la scatola dell'iPhone che voi comprate non avrà più la plastichina intorno. E io l'ho comprato così. L'ho pagato veramente tipo 300 euro in meno del suo valore. Ed era nuovo. Fiammante neanche mai inizializzato. Con i cavi, tutte le robe ancora a volte. Come si dice la pellicolina sull'iPhone. Proprio preciso. L'unica cosa che aveva era non aveva più la pellicola intorno alla scatola. Per il resto perfetto. E lo pagate scontatissimo. Ovviamente gli articoli su Warehouse sono limitati. Sono quelli che tornano da eventuali resi. Dovete tenerlo monitorato. Ma fate degli affari paura. Detto questo. Questa appunto è una cover. E funziona a wireless. Penso si dica wireless. Insomma voi poggiate il vostro telefono qua. Schiacciate due volte il pulsantino che c'è qua dietro. E la batteria inizia a ricaricare l'iPhone. Quindi libere da cavi. Da portare. Sapete il classico. La batteria in borsa. Col cavo. Attaccato all'iPhone. Robe vecchie. Siamo già un passo avanti. Con la cover. Appunto. Con il wireless. Topperrimo. Credo che sia wireless. Bluetooth. Non lo so. Insomma. Una roba di raggi. Che si connette al vostro telefono. E ve lo ricarica. Quindi mi piace. Dai. Pazzire. La mia amica per la vita. Poi. Sono in fissa. Totale. Per quanto riguarda l'abbigliamento. Con sempre lo stesso look. Ormai ho sposato. Questa causa. Della donna sportiva. Mi sento a mio agio. Vestita in maniera casual. Se così vogliamo dire. Il mio tocco bizzarro. Sono le mie camicie. O magliette particolari. Questa per esempio. Con i dinosauri. Di paillette. L'avevo presa appunto. Su Shein. E la uso tantissimo. Ma un accessorio. Che caratterizza sempre il mio look. Soprattutto in primavera estate. Perché non c'è giorno. In cui io non porti. Gli occhiali. Da sole. I miei preferiti. Sono questi. Tondi. Giganteschi. Mi piacciono da morire. Non mi ricordo dove li ho presi. Forse da talli. È probabile da talli. O in qualche sito online. Fatto sta che. Voi non li vedete. Probabilmente. Ma hanno tutta la montatura. Tipo. Fiorita. Fiorata. Fiorata. In azzurro. In azzurro. Rosa. Un po' scuro. Insomma. La cosa che mi piace. È proprio la grandezza. Questo occhiale. Tondo. Tondo. Così. Gigante. E le altre cose. Che mi fanno impazzire. È il look. Jeans. A vita stra alta. Ma non super super. Aderente. O meglio. Un pochino mom. Ma non troppo. Un mom. Un mom jeans. Un pochino meno mom. Del solito. Perché se è troppo mom. Fa un po' effetto culona. Secondo me. E questo è. A vita stra stra alta. Mi rivolgo a tutte le ragazze. Molto piccoline. Di taglia. Tagli. 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 Come ci ami. È un jeans taglia 32. Non li trovo facilmente. 32. 34. Che sono la 38 italiana. Si trovano praticamente ovunque. Ma i 32. Che sono la 36 italiana. No. Si fa un po' fatica. E io. Vesto esattamente una 32. Quindi. Jeans di tagli. Sono la svolta. Per me. Questo. L'ho preso ai saldi. È leggermente elasticizzato. Con qualche strappettino. Lungo. Però vedete. Dal. Diciamo. Gamba in giù. Non è super super skinny. È uno skinny. Non attaccatissimo. Quindi mi piace un po' di più. Sotto è tagliato al vivo. E ha gli spacchetti. Qua. I tagli. Diciamo. Sulle ginocchia. Mi piace da morire. Quindi porto quasi sempre questo tipo di jeans. Ce l'ho anche scuro e nero. Con le magliette. Stanno in fissa. Con le magliette. Del. Dei brand famosi. Tipo. Me l'avete vista in questo video. In questo video. In questo canale. Mi avete chiesto infatti. Dove l'avessi presa. È la maglietta della Lego. Che adoro. La metto dentro i jeans. Con una cintura. Mi piace moltissimo. Quindi non magliettine aderenti. Ma classiche t-shirt. Ma della mia misura. Questa della Lego. È una delle mie preferite. Un'altra che adoro. L'avevo sempre presa da Bershka. È quella con le bibite. Devo prendere quella della Sprite. Che l'ho vista da Alcott. Questa della Fanta. Questa qua invece. Vedete. È più crop. Un po' larga. Fatta appositamente così. L'altra che ho preso di recente. L'ho presa da Alcott. Ve la faccio vedere. È sulla gruccia. Perché si sta asciugandolo. Appena lavata. È questa qua. Della Pepsi. E voglio prendere anche quella della Sprite. Questa della Pepsi. Costa 9,90. E c'era Coca Cola. Pepsi. Fanta e Sprite. Giustamente. Non c'era la 7 Up. Cosa che avrei voluto tantissimo. Perché è veramente molto della mia generazione. La 7 Up. Comunque. Niente. Ho preso questa della Pepsi. Mi piace tantissimo. Un'unica cosa che non mi ero accorta. È che ha un buchino qua dietro. Perché evidentemente. Quando gli hanno messo il prezzo. L'hanno bucata. Io non mi sono. Un cartellino del prezzo. Io non me ne sono resa conto. Però vabbè. L'ho pagata a 9,90. L'amo tantissimo. E mi piace molto. Sia questa maglietta. Che tutte quelle delle bibite. E messe con le gonne di tulle. Larghissime. Super romantiche. Molto a contrasto. Quindi sopra queste magliette. Un po' così anni 80. T-shirt con i loghi dei brand. E sotto il super romantico della gonna di tulle. Con le scape da ginnastica. Look che amo. E questo è tutto. Per quanto riguarda le side orimanie del mese di aprile. Io spero di avervi tenuto a compagnia. Come al solito. Con questo video. Che adorate. Perché vi piace veramente tanto. Lo aspettate con ansia. Questo mese invece ho visto che. Pubblicandolo. Nei giorni. Mi pare di averlo messo online. O il 25 aprile. O il primo di maggio. Non me lo ricordo. E' passato un po' sotto tono. Il video dei prodotti fini. Quindi ve lo lascio qui. Nelle schermate finali. Perché ci sono i miei prodotti. Terminati del mese di aprile. Con tutti i miei giudizi. I proprio di quelli. Insindacabili. Perché quando finisco un prodotto. Il giudizio è quello. E siccome vi piace di solito così tanto. Ve lo lascio qua. Nelle schermate finali. Che se l'avevate perso. Insomma ve lo recuperate. E noi ci vediamo domani. Con un nuovo video. Ciao.